Furry e la ciliegina la mette il leader, Melli marca il playmaker, che problema c'è? Che problema c'è con Melli? La prende Gallinari 3 contro 1, Gettine al volo, Gallinari, Gallinari, Gallinari! Timo di tiro e altro palo per i Warriors, 3 su 19 addirittura, ci prova le bronzette! Lebron James, in transizione, fotografia della partita, che ci lascia lì Mr. James! Poi il rimbalzo contro il lato da Iguadana, che prende velocità, schiaccia per terra, per lui, avviva! Incredibile, arriva incredibile, si oscura la ballata, cosa ha fatto? Lebron James potrebbe aver messo la firma sul capolavoro, è la gioconda, non è una stoppata, quella che ha fatto Lebron James, che adesso deve recuperare KC, blocco duro di Barnes, forza un 3 limite, palleggio per Curry, contro Iba Cass, se la vuole giocare lui e se la gioca lui, in penetrazione, appoggiato al vetro! Il mosso del cobra! Stephen Curry avvicina a gara 7 e alla storia! I Golden State Warriors va giù di testa, un'intera baia! Post basso per Hackett, è una soluzione molto utilizzata dall'Italia nella preparazione, grandissima palla per Andrea Bargnani, che segna, subisce il pallo tra il lunetta con libero supplementare, balzo lungo per Stephen Curry che attacca, e perro! arriva Lebron James e dice, ma non se ne parla neanche! E adesso vuole anche qualche parolina tra i due! Gasol, proprio per Butler, che forza da fermo! Alla Kyle Lowry! Altro tiro, altro giro, altro regalo! Jimmy Butler, adesso il dubbio è, da tre o da due? Da tre o da due? Da tre, signori, da tre, 41! Un giovane di 18 figli del marinaio Sid, da 5 donne diverse! Alferro Curry riapre, non so come, per Green, che lo rimette in ring! Nooo, Stephen Curry! Asciato solo, pessima palla a una mano di Curry, Irving dall'altra parte a tutta velocità, se sei contato, manda per a lui il pallone! E scriva la Cavalier, fanno a più 5, e Kyrie Irving è soprannaturale! Per Kobe, ultimi 40 secondi, e possibilità del sorpasso addirittura nelle mani, non dei Lakers, nelle mani del numero 24, che attacca, va in palleggio, arresto, tiro! Si muove la rettina, sono 58, 58! Odala, occasione ancora del sorpasso per Golden State, in mezza transizione, Thompson perde, Irving! E poi con la fa, 10 dal cilindro, un coniglio bellissimo! Ancora lontano dall'entrare in questa serie, lo stesso per questa partita vale per Curry, palo a toga! Gesto Barbaro! Vino Bro e James! Ancora nelle mani di Kobe Bryant, ultimi 60 secondi della carriera, tripla! Bang! Kobe Bryant! Rivalzo contro l'altro da Golden State, come prima, Curry non fischia e non chiede il timeout! Kobe! No! Anche questo! No! 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 6 decimi! Do parliamo! E chi parla? Per James, per Thompson, per Irving, c'è ancora Curry, messo nel pick and roll, accetta per l'ennesima volta il cambio, passo sulle gambe, a lavorare contro Irving, steffetta, da tre punti! Boba Bang! Mostruosa tripla di Kyrie Irving!